Ciao a tutti, in Emilia Romagna abbiamo ottenuto un grandissimo risultato. Il 13 dicembre a Mirandola si terrà il primo referendum in Italia sui temi della sanità. È un referendum che permetterà per la prima volta ai cittadini di dire la loro su che tipo di sanità vogliono e su come deve essere il proprio ospedale. È un risultato molto importante, raggiunto faticosamente. Il Movimento 5 Stelle, assieme ai comitati referendari, l'ha fortemente voluto, il PD invece ha cercato di ostacolarlo in tutti i modi, ha cercato di vietarlo, addirittura una volta ottenuto questo risultato l'ha definito un capriccio, l'ha definito superfluo, l'ha definito addirittura una truffa e ha invitato i cittadini esplicitamente all'astensione, un fatto particolarmente grave. L'ospedale di Mirandola, prima del terremoto che ha sconvolto l'Emilia nel 2012, era un punto di riferimento per più di 100.000 utenti in tutta la bassa modenese. Ecco perché speriamo che questo fatto particolarmente importante e anche particolarmente simbolico possa diventare un'apripista per difendere tutti quei nostri ospedali che in questo momento sono al centro di una pericolosissima politica di depotenziamento, di declassamento, quasi un accanimento verso quelle che invece erano le strutture d'eccellenza del nostro territorio. Noi crediamo che il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, che il diritto al voto, che il diritto alla partecipazione, siano diritti inalienabili, diritti su cui non possiamo negoziare, da cui non possiamo derogare e questo momento, il momento del 13 dicembre, racchiude tutti. Quindi invitiamo tutti i cittadini mirandolesi a ricarsi ai seggi e invitiamo tutti voi a diffondere questa notizia, tutti insieme ce la possiamo fare. Grazie a tutti.